ben trovati davide il critico oggi bologna udinese sfida da non sbagliare una chiamata importante per rimanere attaccati a quel sogno quindi chiaramente fino a ieri c'erano 50 gradi all'ombra oggi ha piovuto quindi in motorino probabile freddo ma andiamo a seguire bologna ok allo stadio ci siamo arrivati pioggia molto antipatica però c'è il sole va a finire che anche oggi mi sono messo giubbotto che toglierò tra dieci minuti inizierò a sudare partita importante il pronostico dentro però già tolto la giacca pranzo orario peggiore per la serie a mezzogiorno e mezza peggiore non presenta la sfida di oggi per la febbre non avevamo la tacpirina da dare e quindi gioca a parte si a parte Grazie a tutti! Masina che torna a casa Lì prima, appena visto Lo dico adesso Segna Barro Segna Barro Con il numero 3 Stefan Bosch 30 Cerdi Scouter Non gioca neanche Orsolini 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 E tuoi anni in Bologna Le mie gambe in Bologna Un golè Un golè Un golè Un golè Buschi Gridente particolare, non li avrei messi, però avrei messo Orsolini, comunque Barro a sinistra, Sansone in mezzo e Ebici alla destra. Perché io la fanno a posh, a posh! Sì, Bologna! Sì, Bologna! Sì, Bologna! Sì! Bologna! 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 Occasione del Bologna che presta altissimo, scouted che inizia gara. Moro avanti, Moro avanti. Potrebbe scaricarla, tira, rientra, Moro! Bologna! Bologna! No! Bologna! 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 No! Bologna! No! 2-0, inizio travolgente. Bosch salva anche sulla linea di porta. Bologna che ha partito benissimo, 21 minuti, 2-0. L'Udinese sta provando a venire su. Un Bologna che pressa veramente al 100%. Ora anche l'Udinese è pericolosa. Non riusciamo a tenere Beto. Calcio di punizione dal limite. Sono in tante. Sansone, Barro, Chiriacopulos. Guarda che sogna Barro. No, Barro è andato via. Tira Sansone per forza. Super parata di Barbi su punizione. Lucomi e Su Marò non riescono a tenere. Finisce il primo tempo 2-0. Buon risultato, chiaramente. Però l'Udinese ha fatto vedere cose interessanti. Beto, il buon Su Marò e il buon Lucomi non riescono a tenerlo. Meno male che è finito il primo tempo perché l'Udinese stava spingendo molto. Se l'arbitro magari non dà 25 minuti di recupero, è meglio. Piove. Inizia il secondo tempo con un cambio nell'Udinese. E piove. Benissimo. Lui a batto con il Musa, batto con il Musa. Barro! Musa! Barro! Musa! Barro! Musa! Barro! Marro! Mu-se! Barro! Lu! 3-0 di Musa che ci prova ancora. e siamo entrati col piede giusto entrano Orsolini, Dominguez e Soriano bravi ragazzi, bravi ragazzi bravo Ebison, bravo Ferguson, bravo Barro torna Mediel, ma pioggia di applausi non solo dal cielo ma anche per Moro partita strepitosa entra Paffundi, vediamo se meritava la nazionale più orsolini questo Paffundi entra anche Masina tra gli applausi meritati del Dallara seconda occasione in pochi minuti prima Dominguez e poi Soriano Dominguez giocatore straordinario però gli manca il gol 5 minuti di recupero ma va sul 3-0 e giocando così ne avrei dati 30 di minuti pur di stare qua ancora un po' beh oggi 3-0 risultato esatto indovinato marcatore Barro nulla da aggiungere rifiutiamo per tutto oggi si sta senza parlare l'oltre è Natale e ora è stato tutto il giorno vedi caro amico vedi 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 caro amico lo so si deve cantare per poter venerci sopra ciao 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 ciao